Ciao a tutti, oggi abbiamo il macro planar 100 mm della Zeiss, bene sì, è un obiettivo bellissimo, come potete vedere è completamente in metallo, tranne per questa striscia di gomma macro, come dice il nome, però può essere utilizzato anche per fotografia riflettistica o natura morta, però non perdiamo tempo e andiamo a vedere insieme come si comporta. Come dicevo prima è completamente in metallo, non è troppo pesante, è leggermente pesante, però mi aspettavo fosse di più. È molto elegante il design, non abbiamo il display elettronico come sui Batis, però la distanza di messa a fuoco è incisa direttamente sulla ghiera, ghiera che occupa gran parte del barilotto, come potete vedere, però scorre veramente in modo fluido, è una delle ghiere più fluide, forse la più fluida che abbia mai provato. È veramente, veramente fluidissima, è un po' lunga, questo ci permette di mettere a fuoco al millimetro, proprio calibrare la messa a fuoco alla perfezione, comunque potete vedere che è veramente lunga per fare il giro completo delle distanze di messa a fuoco, dobbiamo fare circa 360 gradi in rotazione, per insomma arrivare fino all'infinito, se partiamo dalla minima distanza di messa a fuoco. Minima distanza di messa a fuoco di 45 centimetri circa, questo ci permette appunto di fotografare in macro, anche se non è un macro, vero e proprio il rapporto di riproduzione dell'obiettivo arriva solo a 1,2, quindi non è 1,1. Sul barilotto sono incise anche, oltre alla scala delle distanze di messa a fuoco, quella che ci indica la profondità di campo, però vengono indicate solo le aperture di 11 e 22, non è proprio il massimo dell'utilità. Altra cosa importante della costruzione, oltre al fatto di essere completamente in metallo, è che all'interno ospita delle guarnizioni che proteggono il barilotto e l'interno, quindi le lenti, da gli agenti atmosferici, quindi particelle di pulvere o schizzi d'acqua, cosa che lo rende, diciamo, tropicalizzato grazie anche alla guarnizione qui, questa blu, sulla baionetta. Possiamo montare qualsiasi tipo di filtro, ovviamente, anche quelli polarizzatori, quindi basta che abbiano un diametro di 67 mm. Quindi questa era la parte della costruzione, la parte estetica, veramente una lente bellissima, anche la confezione è molto elegante, con il rivestimento interno di spugna blu. Quindi, niente, questa era la parte della costruzione, andiamo a vedere come si comporta e che prestazioni è in grado di offrire. Piccola premessa, è uno Zeiss, sì, quindi qualità eccezionale, però non è un obiettivo privo di pecche, andiamole a vedere insieme. Partiamo dalla distruzione, le immagini che restituisce sono perfettamente piatte, non ne abbiamo il minimo accenno, veramente la perfezione è fatta immagini, da questo punto di vista. Però la vignettatura è una delle pecche che vi ho accennato, perché alla piena apertura le immagini sono sature quasi di questo disturbo, solo la parte centrale è più chiara, il resto è tutto conquistato, fra virgolette, dalla vignettatura. Per liberarci, ne dobbiamo chiudere il diaframma a 2.8, dove le immagini mostrano un leggero accenno di vignettatura. Poi, per avere delle immagini proprio libere completamente dal disturbo, dobbiamo arrivare a 4 di apertura focale. La nitidezza invece ci, diciamo, aiuta a riavere fiducia nell'obiettivo, perché è una delle nitidezze maggiori che abbia mai visto su un obiettivo veramente, veramente eccezionale. Già alla piena apertura ha un livello di dettaglio eccellente, proprio veramente tanto, e non solo nella parte centrale, anche nelle zone periferiche mantiene un livello altissimo di dettaglio. Se chiudiamo il diaframma aumentiamo la nitidezza, anche se di pochissimo, perché già a 4 arriviamo alla massima nitidezza che l'obiettivo è in grado di restituire. Però è una nitidezza veramente, veramente eccezionale. La potete vedere nelle foto dell'articolo del blog, che vi lascio linkato giù in descrizione, perché YouTube molto probabilmente non rende l'idea. Passando alla gestione delle aberrazioni, partiamo da quelle cromatiche, non è la gestione migliore che abbia mai visto, rientra nelle pack che vi accennavo prima, perché specialmente alla piena apertura e nelle zone con un alto contrasto, una alta differenza di contrasto, si vedono queste linee fucsia o verdi, che saranno più o meno difficili da correggere in post-produzione, dipende dalla situazione in cui scattiamo. Per contro i flare vengono gestiti alla perfezione, ce n'è il minimo accenno, quello fisicamente impossibile da eliminare, le cose comunque migliorano se montiamo il paraluce molto elegante, che continua la linea dell'obiettivo, veramente esteticamente molto piacevole da vedere anche il paraluce. Quindi, diciamo, flare gestiti alla perfezione, che vanno a contrastare la versazione meno buona delle aberrazioni. Infine, il bokeh. Bokeh bellissimo, veramente uno dei bokeh più belli che abbia mai visto, perché lo fondo è morbidissimo. La lunghezza focale e l'apertura focale collaborano per dare vita a queste immagini con una profondità di campo poco profonda. Scusate il gioco di parole. E, inoltre, le highlights hanno il bordo sfocato, che va a mescolarsi con lo sfondo delle immagini, dando vita a questo sfondo molto molto morbido. Quindi, bokeh, veramente, veramente bello da vedere. Proprio da soddisfazione fare le foto con questo obiettivo. Quindi, concludendo, obiettivo eccezionale, senza dubbi, però, come dicevo prima, non privo di pecche. Tenendo conto di chi lo costruisce e il prezzo che ha non è per niente economico come obiettivo, mi aspettavo delle prestazioni migliori. Quindi, vignettature e aberrazioni me le aspettavo gestite molto meglio. Però, le altre prestazioni valgono sicuramente a contrastare questi difetti e a sormontarli sicuramente. C'è da tenere in considerazione, però, che non è un obiettivo molto economico. Lascio a voi decidere se promuoverlo o meno. Se io dovessi dargli un voto potrebbe essere 8, 8 e mezzo, 9, forse. Però, insomma, lascio a voi decidere. Dite quello che vi pare nei commenti, fatemi domande se ne avete. Io il video lo concludo qui. Vi lascio il link all'articolo, almeno, come dicevo prima, potete guardare meglio le... foto alla... a una risoluzione maggiore. E quindi, niente, lo concludo qui questo video. Quindi, dal tutto, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.